Automa ha deciso per quest'anno di richiedere la certificazione SA8000, una certificazione volontaria ed internazionale basata sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo e sul rispetto etico di tutti i lavoratori. La nostra volontà è quella di garantire e certificare il rispetto di tali diritti per tutti i nostri lavoratori, sia nella sede italiana che nella sede estera, e di farci garanti di questi valori anche per i nostri fornitori e per i nostri clienti sparsi in tutto il mondo. In Automa tra il 2018 e il 2021 le assunzioni di personale femminile hanno avuto un incremento del 140% e oggi l'88% delle nostre donne è mamma. La mamma in Automa è colei alla quale viene data la possibilità di occuparsi dei propri figli agevolando di due ore di permesso giornaliero retribuito a stipendio pieno. Si tratta di un'iniziativa di welfare nata nel 2020, fruibile da tutte le nostre mamme con figli in fascia d'età tra gli 0 e 10 anni. Allo stesso modo Automa è molto attenta alla multiculturalità. Tra il 2018 e il 2021 abbiamo avuto un incremento di occupati stranieri del 130%. Inoltre nelle nostre filiali estere, con la indiana, americana, cinese, spagnola, il personale direttivo e in generale la forza lavoro sono costituite al 100% da persone locali. L'impegno per la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori è uno dei punti cardine della politica Automa. Infatti l'azienda è certificata 45001 dal 2011. L'impegno preso da Automa continua l'attività interna dell'RSU. Questo nuovo progetto rafforza ulteriormente il rapporto fra azienda e dipendenti, instaurando tra di essi un rapporto sempre più limpido e chiaro. Nell'ambito della supply chain Automa sensibilizza i propri fornitori al rispetto della norma S8000 e delle norme nazionali e internazionali, promuovendo comportamenti socialmente corretti. Il valore di un prodotto, oltre che dalle sue caratteristiche qualitative intrinseche, è costituito anche da caratteristiche non materiali associate, ad esempio alle condizioni di fornitura, alla personalizzazione e ai servizi di assistenza. L'impegno etico di un'impresa entra a far parte della catena del valore, prospettando l'utilizzo di nuove leve competitive. Automa, attraverso audit e controlli periodici da parte di un ente terzo di certificazione, assicura la massima trasparenza e collaborazione per garantire a tutti i collaboratori un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e un miglioramento del clima aziendale. Automa vuole sensibilizzare le altre aziende del territorio in merito alle tematiche di responsabilità sociale. Gli ultimi dati statistici dimostrano che a Bergamo in provincia solo circa 40 aziende sono certificate S8000 su 1993 totali in tutta Italia e 4666 in tutto il mondo. Per questo motivo la comunicazione della norma sia all'interno che all'esterno dell'azienda è di fondamentale importanza per la diffusione dei valori che Automa condivide e che mette in pratica quotidianamente. Il talento vince la partita, l'intelligenza e il lavoro di squadra vincono il campionato. Sono orgogliosa del nostro social performance team e sono sicura che sin dal primo momento e sempre di più nel proseguo sapranno condividere con ogni nostro collaboratore i principi sottesi a questo bellissimo progetto. Ringrazio ognuno perché ogni membro del social performance team rappresenta un elemento importante in questo progetto. Ringrazio per la partecipazione che stanno dando, l'entusiasmo e la voglia di fare che farà crescere questa azienda ancora di più. Grazie a tutti.